buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv diamo un'occhiata come tutti i giorni ai due giornali con cronaca locale il resto del carlino e il corriere adriatico oggi è sabato sabato 16 aprile 2022 ma è anche il sabato precedente alla pasqua e vediamo come la giornata può iniziare sotto l'insegna del giorno importante del giorno importante del triduo pasquale il terzo giorno del triduo pasquale che commemora la discesa di gesù agli inferi ebbene un episodio particolare che varrà che deve essere approfondito nel testo evangelico e vedremo perché poi bisognerà capire poi perché gesù è sceso agli inferi prima della ressurrezione ma io voglio parlarvi di quello che ha destato clamore sensazione anche commozione ieri sera l'evento diffuso sulle televisioni sui mass media per quanto riguarda la via crucis che si è svolta dopo due anni di assenza a causa della pandemia nei pressi del colosseo a roma con la presenza di papa francesco hanno destato sensazioni e le presenze di due donne una russa e una ucraina si tratta di irina ucraina e albina russa che hanno sorretto insieme la croce due donne che rappresentano due nazioni antagoniste ma che in realtà sono molto amiche perché sono due infermiere aiutate a prestare le cure e sollievo alle persone che soffrono ebbene in questo momento ha detto albina che la signora russa il mio cuore è vicino ai bambini costretti a vivere nei bunker io sono russa e sono contro la guerra la ucraina insomma ha rinunciato a trasmettere queste riprese nel nel proprio paese però insomma credo che il monito di papa francesco con questa scelta sia il più indovinato nello spirito evangelico vediamo anche le previsioni del tempo vediamo le previsioni il tempo si mantiene in prevalenza primaverile comunque ci sono delle nuvole i cieli sono in prevalenza poco nuvolosi salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con con associate deboli piogge ci sono delle rasserenate in serata e i venti saranno al pomeriggio tesi le temperature uscilleranno tra i 9 gradi per quanto riguarda la minima e i 17 per quanto riguarda la massima diamo un'occhiata ora subito ai giornali a partire dal resto del carlino la pagina di fano l'apertura è dedicata ad uno dei monumenti più noti della città ovvero il bastione sangallo un bastione che correda la dizione manatestiana realizzato nel sedicesimo secolo da antonio sangallo l'architetto del papa per difendere la città dagli attacchi dei pirati saraceni che in quei tempi navigavano in adriatico bastione sangallo il marciapiede è da rifare e anche la passeggiata a linea la diciamo così la pedana linea che consente anche ai disabili di raggiungere il bastione non solo è prevista anche la sostituzione della pedana d'accesso dice appunto il giornale va recuperato il progetto di massima di oltre 15 anni fa un progetto che fu realizzato che fu redatto dall'equipe dell'architetto cupini lo stesso che poi si occupò delle mura romane dell'arco d'augusto della torre di sant'elena della rocca malatestiana insomma dei progetti che sotto la direzione dell'allora assessore alla cultura martino branca diedero un notevole impulso alla cura dei monumenti della città si verrà rifatta anche l'illuminazione architetturale così è stata definita ebbene a questo proposito c'è stata anche un input di due consiglieri di azione più europa stefano marchegiani e cora fattori i quali appunto hanno incalzato la giunta ad occuparsi di questo monumento storico importante della città e poi vediamo anche il messaggio del vescovo armando trasarti il messaggio di pasqua appunto diffuso in città non rassegniamoci alla violenza ha dichiarato il presule il vescovo invita ora più che mai ad accogliere all'accoglienza ovviamente ha parlato soprattutto di quello che sta accadendo la violenza che impera nel mondo nonostante che il mondo abbia progredito lo sviluppo abbia raggiunto mete impensabili fino a poco tempo fa è arrivato sulla luna e oltrepassato il sistema solare però il cuore duro degli uomini ancora persiste e sfocia nella guerra l'uomo continua a dare uno spettacolo pietoso ha dichiarato di disumana convivenza abilissimo a mostrare il peggio per il vescovo di fano fossombrone cagli e pergola non dobbiamo però rassegnarci all'idea che questo mondo non possa che in questo mondo non possa vincere la violenza solo nel segno della fratellanza universale ci potremo salvare ha dichiarato giriamo la pagina e vediamo un'altra notizia importante perché i lavori del sant'arcangelo si sono fermati si sono fermati per una sentenza del tar cui ha fatto ricorso la ditta navarra che era arrivata al secondo posto nella gara d'appalto ora la ditta vincitrice potrebbe appellarsi al consiglio di stato ebbene purtroppo si è verificato ciò che incombe su ogni progetto ricorsi su ricorsi lentezze la burocrazia impera insomma è un sistema da revisionare perché poi che ci rimettono sono i cittadini ebbene alla fine di quest'anno doveva già vedersi qualcosa nella ristrutturazione del sant'arcangelo dove in atto la realizzazione del museo del carnevale e della casa della musica però credo che ormai dopo questo ricorso i tempi si dilungheranno e non si sa fino a quando e poi un lutto un lutto è morto Agostino Felicetti aveva 92 anni era un cacciatore un cacciatore con una sensibilità ambientale infatti esprimono il loro lutto il loro cordoglio i cacciatori i fanesi specialmente quelli aderenti alla federcaccia una associazione cui aveva aderito Agostino Felicetti nella quale poi aveva ricoperto cariche molto molto rappresentative era stato presente ad ogni riunione o assemblea al fianco dei vari presidenti provinciali a partire dagli anni 50 da Rocchini a Sbrozzi da Iacucci a Gori e nell'ultimo decennio anche accanto al presidente attuale presidente regionale Paolo Antonioni dirigente arguto gli piaceva ascoltare gli umori e i pensieri dei soci per poi elargire i suoi consigli ebbene una persona molto nota a Fano deceduto ad una veneranda età a 92 anni i suoi funerali si celebreranno lunedì prossimo alle ore 8.30 nella chiesa di San Pio X al Poderino ed ora passiamo a Pergola nel bilancio è stato nel bilancio preventivo fondi a scuole e fragili è stato convocato per martedì dopo Pasqua alle ore 18.15 il consiglio comunale di Pergola che tornerà in presenza dopo due anni di sedute per via telematica al primo punto l'approvazione del bilancio di previsione ovviamente non sono previsti aumenti né delle tariffe né delle tasse per quanto riguarda le tasse e i tariffe ormai sono al limite che possono essere applicate comunque ci sono dei fondi che probabilmente solleveranno la soddisfazione dei cittadini perché poi sono indirizzati alle scuole e alle persone fragili a Val Cesano abbiamo una notizia che riguarda due comuni e quindi nel complesso un territorio particolarmente esteso si tratta di Pergola e di Mondavio ebbene una guardia medica dimezzata tra queste due località ma almeno c'è e questo è già importante l'Asur ha previsto una integrazione tra il presidio di Pergola e quello di Mondavio per realizzare dei turni e vediamoli questi turni nel dettaglio per il turno diurno di oggi dalle 8 alle 20 per quello notturno dalle 20 alle 8 di domani mattina e quello diurno di domani la guardia medica operativa sarà sempre solo quella di Mondavio la notte tra domani e lunedì saranno attive invece entrambe sia quella di Pergola che quella di Mondavio e poi da lunedì funzionerà quella di Pergola e la notte successiva ci si potrà rivolgere a tutte e due ecco qui sono i turni che sono stati equilibrati combinati tra Mondavio e Pergola e vediamo poi come a Mondolfo tre giorni di apertura del bastione di Sant'Anna che già era stato aperto nelle giornate del FAI dopo decenni di chiusura questo monumento storico particolarmente rappresentativo per quanto riguarda Mondavio viene riaperto al pubblico ed è bello anche soggiornare nei suoi giardini risale al XVI secolo appunto nelle 1500 oggi domani e lunedì l'apertura del bastione di Sant'Anna ad Urbino ci sono richieste per il ripristino del campetto da basket che è in uno stato ormai inservibile nonostante la grande richiesta la struttura è ridotta malissimo il fondo è pessimo c'è un appello al comune trovate i fondi per risolvere la situazione è una struttura importante per gli amanti del basket che lì possono giocare, allenarsi e divertirsi appunto questo appello vediamo anche le altre pagine per quanto riguarda Urbino sport sui fiumi preoccupazioni per il turismo si salvano le uscite in canoa ma rimarrà vietato fare acqua trekking o escursionismo dentro i corsi d'acqua e questo anche per la protezione dell'ambiente sulla pagina di Pesaro del Corriere Adriatico scusate, dell'arresto del Carlino vediamo una notizia di cronaca perché la polizia è riuscita ad individuare i rapinatori che rapinarono un rappresentante di gioielli sono stati presi, sono tre campani traditi dalle telecamere è stata una lunga inchiesta quella è meticolosa anche molto molto particolare che è stata compiuta dalle forze dell'ordine i quali sono riusciti a risalire appunto agli autori di questa rapina sono tre napoletani che poi erano già agli arresti domiciliari tra i 40 e i 50 anni tutti con una fedina piuttosto lunga è un'abilità non comune erano dei veri e propri professionisti un anno fa sciparono la borsa ad un rappresentante di Preziosi di Perugia mentre stava salendo sulla sua auto parcheggiata in piazzale Carducci fu una rapina lampo ben ben studiata c'era poi il palo c'erano quelli che avevano preparato la fuga con delle motorette per riuscire a svicolare nelle vie della città insomma un'azione preparata molto molto bene ma poi anche l'inchiesta è stata un successo preparata bene anch'essa e poi vediamo il caso di una bella sanità non di una mala sanità ho mal di testa e purtroppo è un tumore salvata una bimba è stata sottoposta ad otto anni ad un delicato intervento per una lesione al cervelletto ancora poche ore e sarebbe entrata in coma e qui vediamo il volto sorridente del primario di neurochirurgia di Marche Nord Letterio Morabito che ha operato la bambina di otto anni l'ha operata insieme ai colleghi tempesta e mensi come anestesisti alla dottoressa Massacesi al dottor Rebonato per quanto riguarda la risonanza magnetica e alla dottoressa Nicolini nella gestione preoperatoria una operazione molto delicata che però è riuscita bene la bimba aveva accusato dei mal di testa sempre più ricorrenti poi sfociati nel vomito allora è andata all'ospedale e qui gli esami hanno subito rilevato quello che aveva ed è subito entrata in camera operatoria per fortuna la cosa si sta risolvendo e noi facciamo tanti auguri a questa piccolina orchestrali e coristi di Kiev salvati l'ex primario in emissione tra i profughi chi è l'ex primario? l'ex primario è il dottor Gian Maria Fiorentini che aveva operato che aveva lavorato diciamo meglio per nove anni come direttore dell'unità operativa dell'ospedale territorio di cure palliative oncologiche nell'azienda ospedaliera Marche Nord ebbene il dottor Fiorentini è andato in Ucraina e qui ha portato in salvo ben 59 orchestrali, coristi e ballerini del teatro di Kiev e qui vediamo invece le fotografie della via Crucis che si è svolta a Pesaro con la partecipazione di 400 fedeli dopo lo stop causato dal Covid ieri in tanti hanno partecipato alla processione era l'ultima dell'arcivescovo di Pesaro Piero Coccia che andrà in pensione ed è stato già sostituito ma per il futuro ha dichiarato spero che mi invitiate in città almeno quello dopo che per tanti anni ha operato come pastore nella città di Pesaro e vediamo che a Pesaro i lavori sul Genica sono ok sono recuperati i posti auto è stata completata la messa in sicurezza di un tratto importante del torrente ieri inaugurazione del mini parcheggio di via Tasso dopo i lavori e sono stati rimossi anche gli ostacoli al regolare scorrimento dell'acqua in caso di piena quello scorrimento che avrebbe causato non pochi problemi e poi si parla ancora di ferrovia dell'arretramento della ferrovia e vediamo che il progetto oppure le dichiarazioni del sindaco di Pesaro Ricci sollevano la contrarietà di 11 sindaci con la regione Stop a Ricci lo vediamo qui nel titolo non possiamo condividere strategie da solista hanno detto i primi cittadini che rischiano di mandare all'aria tutti gli sforzi delle amministrazioni locali e della regione Marche per disegnare una visione unitaria complessiva delle infrastrutture e chi sono questi sindaci? sono i sindaci Nicola Barberi di Mondolfo Massimo Livetti di Senigallia Stefania Signorini di Falconara Fabrizio Cerapica di Civitanova Marche Nicola Loira di Porto San Giorgio Paolo Calcinaro di Fermo Vincenzo Berdini di Pedaso Alessio Persimoni di Cupra Maritti e Maiantonio Spazzafumo di San Benedetto insomma è rappresentata veramente tutta la regione o si fa un progetto complessivo che porta benefici a tutto il territorio oppure non si fa niente questa dovrebbe essere un po' l'alternativa che viene alla luce in merito a queste posizioni e poi un altro incidente stradale un incidente stradale che è accaduto nella giornata di ieri lo vediamo qui riassunto in questa pagina schianto sedicenne soccorso da Eliambulanza l'incidente si è verificato ieri pomeriggio in strada a Pontevalle davanti al lavatoio di Santa Veneranda nella carambola uno scooter contro un'auto è stato un frontale ovviamente la peggio è toccata al giovane Centauro che è carambolato a terra riportando una serie di contusioni ed ecchimosi e vista la situazione e soprattutto la giovane età del ferito gli operatori del 118 hanno fatto accorrere hanno richiamato l'eliambulanza da Ancona il giovane per fortuna è rimasto sempre lucido seppur dolerante non dovrebbe essere in gravi condizioni e poi vediamo le fortune della Renco oltre 300 milioni nel 2021 appalti per 100 milioni solo con il 110 ovviamente il bonus delle facciate in ballo c'è anche una grossa area all'Expo di Milano per i prossimi lavori e si sta riaprendo il Mozambico e rispunta la TAP la TAP quel grande gasdotto che dalla Grecia attraversa l'Adriatico e giunge in Puglia anche qui l'azienda pesarese ha avuto i suoi lavori ancora una notizia per quanto riguarda il resto del Carlino concludiamo la lettura del giornale con luci sulla pista ciclabile ecco il nuovo impianto inaugurazione nel tratto tra la cantina sociale di Morciola e Pian del Bruscolo a questo punto diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico dove l'apertura per quanto riguarda la pagina di Fano è dedicata al porto Marina dei Cesari 11 milioni di debiti purtroppo questa è la fallimentare situazione della gestione del porto turistico Marina dei Cesari insomma è in pregiudicato comunque l'operatore il presidente Alberto Accaziol dice che non è tutto è perduto se falliamo faremo di nuovo ricorso ha dichiarato l'imprenditore il quale non si arrende all'istanza dei creditori gli ormeggi sono gestiti per fortuna da un'altra società che dovrebbe porre a riparo i contratti che sono stati sottoscritti si chiama Darsena dei Cesari non più Marina dei Cesari e Darsena dei Cesari non ha una situazione debitoria e poi ci sono state anche delle vicende delle vicende che si sono svolte nei giorni scorsi come le offerte di un imprenditore svizzero che avrebbe voluto rilevare Marina dei Cesari ma sembra che la cosa sia sfumata perché insomma le offerte non erano assolutamente proficue insomma non sono andate da buon fine ecco questo è quello che è emerso poi dagli ultimi accertamenti non rassegniamoci alla violenza la nostra vita è appesa a un filo il richiamo pasquale del Vescovo alla guerra e alla pandemia innamoriamoci del quotidiano ovvero di quello che possiamo fare tutti i giorni e anche nelle cose più minute e questo è un po' lo spirito del discorso del Vescovo e poi anche qui si parla del Bastione Sangallo via le barriere architettoniche si rifà appunto la passerella in legno e poi c'è la proposta di azione più Europa per rilanciare la piena agibilità del luogo e salire sul Bastione Sangallo si vede tra l'altro un bellissimo panorama e si vede un po' come nel 1500 si concepivano le opere di difesa della città con l'introduzione appunto dei cannoni della polvere da sparo che aveva rivoluzionato il modo di costruire le opere di difesa medievali quelle quando ancora si usavano gli archi e le frecce nella Val Metauro per quanto riguarda Fossombrone si punta il dito sulla quadreria Cesarini la quadreria che presenta dipinti a rischio per le infiltrazioni dal tetto è un intervento questo programmato dal comune anche sulla facciata con l'avanzo di amministrazione e vedete qui in questa fotografia come la facciata della quadreria Cesarini abbia bisogno di un restauro di una qualificazione chi non l'ha vista io vi invito a vederla questa quadreria perché è una pinacoteca veramente interessante con quadri di grande valore e poi per quanto riguarda Pergola si guarda con fiducia al turismo ristoranti alberghi bed and breakfast finalmente il tutto esaurito Confcommercio conferma una tendenza che allinea costa ed entroterra e il binomio costa-entroterra è una delle soluzioni vincenti per attirare turisti nel nostro territorio dato che le offerte che presenta la stagione balneare con le meravigliose occasioni di visita dell'entroterra tra arte cultura e ambiente costituiscono una combinazione veramente che può attrarre molti turisti ancora per quanto riguarda invece la pagina di Senigallia si parla dei lavori dell'escavo che sono ancora al palo ferma pure la vasca di espansione riattivato il confronto del contratto di fiume dal comune ma i due progetti sono bloccati dalla burocrazia ebbene sono due progetti importanti per rendere più sicuro il fiume Misa che sappiamo che quando si imbizzarrisce crea parecchi danni le alluvioni sono ancora una cosa che scotta a Senigallia comunque è stato riattivato il tavolo del contratto di fiume ma non partono questi due lavori importanti quelli dell'escavo e quelli della vasca di prima pioggia l'escavo nel tratto finale tra la ferrovia e il mare è stato interrotto a settembre dello scorso anno per le indagini della procura volte a chiarire il corretto smaltimento dei sedimenti rimossi sembra che non siano stati smaltiti nel modo dovuti inizialmente erano stati portati in una cava quindi smaltiti a terra come prevede la legge per i detriti del fiume invece dovranno essere riportati in mare perché pur trovandosi nel torrente nel fiume Misa sono nelle vicinanze del mare e quindi devono essere portati appunto a largo e questa è una di quelle cose che la legge insomma anche un po' incomprensibili che la legge impone vediamo anche la pagina di Pesaro del Corriere Adriatico a partire da questa notizia del Genica che non fa più paura e la ciclabile di via Cialdini collegherà il centro e Loreto all'inauglieri questa notizia è stata un po' diramata in occasione della inaugurazione del parcheggio di Via Tasso dove sono stati illustrati i piani della viabilità cerniera erano presenti Matteo Ricci insieme all'assessore ai lavori pubblici Riccardo Pozzi ebbene ieri mattina è stata illustrata in questa occasione è stato illustrato in questa occasione il completamento del primo stralcio dei lavori per la messa in sicurezza della torrente Genica è ormai una questione di settimane ha detto in pratica il sindaco Ricci presenteremo i progetti per ridisegnare la viabilità nel tratto cerniera tra centro storico e lungogenica che attraversa tutto il quartiere di Loreto opere importanti dunque per la viabilità e soprattutto per l'ambiente di questa zona di Pesaro e vediamo anche la pagina dedicata all'arretramento della ferrovia bypass no di tutti a Fosso 6 ore e Metauriglia divide i sindaci di Fano e di Mondolfo in questo caso sono contrarie alla soluzione indicata dal sindaco Ricci per oltrepassare Marotta ci vogliono altri un altro miliardo e 200 milioni metà con il risparmio per il traforo e siamo in conclusione c'è solo il tempo per evidenziare queste due pagine di cronaca rappresentante rapinato in centro un anno dopo incastrata la banda ne abbiamo parlato e poi la seconda pagina dedicata all'incidente che si è verificato sulla strada tra Santa Veneranda e Ponte Valle all'altezza del lavatorio e qui terminiamo la nostra rassegna stampa non mi rimane che augurarvi una buona giornata ma anche una buona Pasqua noi poi ci risenteremo ormai tra due giorni perché ci sono le festività e domani i giornalisti non lavorano è uno dei pochi giorni dell'anno in cui i giornalisti fanno festa quindi vi do appuntamento a martedì prossimo alle ore 7 e quindi buona giornata Grazie a tutti